L'Europa si sta chiudendo ancora una volta. I governi fanno fatica ad affrontare la velocità e la portata della temuta seconda ondata da coronavirus. Il senso di urgenza guida i leader dell'Unione Europea, riuniti in un vertice per risolvere la crisi sanitaria tramite videoconferenza. Ogni giorno conta, è estremamente urgente migliorare l'efficacia della nostra risposta alla pandemia. L'Unione Europea vuole coordinarsi sulle strategie di vaccinazione e sui test comuni. Fino ad ora, spiega il presidente del Consiglio Jean-Michel, avevamo solo i famosi test PCR, che sono test che richiedono diverse ore prima di poter ottenere i risultati. I test rapidi possono cambiare le cose, possono cambiare la nostra strategia ed è per questo che dobbiamo collaborare all'approvazione di test rapidi e al loro riconoscimento reciproco. Ciò potrebbe anche aiutarci a ripristinare la libera circolazione delle persone. Michelle insiste sui piani di vaccinazione per dare le prime dosi disponibili a coloro che ne hanno più bisogno. Secondo la Commissione Europea, il vaccino non sarà disponibile per tutta la popolazione prima del 2022. I leader europei sperano di potersi incontrare più spesso tramite videoconferenza e di evitare le divisioni della prima ondata, il tutto per limitare la perdita di vite e di mezzi di sussistenza per i cittadini europei. Grazie. 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 Grazie.